I carabinieri della stazione di Monteporzio hanno arrestato un nigeriano, 43enne del posto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto responsabile di violenza sessuale e maltrattamenti verso la moglie, una connazionale, fatti commessi alla presenza del figlio di soli 5 anni. Il carattere violento dell'uomo che picchiava la donna anche per futili motivi si sono manifestati subito dopo il loro matrimonio avvenuto 6 anni fa. Il 43enne dopo un anno solo di convivenza costringeva anche la donna in stato interessante a spacciare per conto suo stupefacenti, poi sia lui che la donna sono stati arrestati per reati legati a stupefacenti. Lui in carcere e lei ai domiciliari, ma nel 2018 quando il 43enne scontata la pena fa ritorno a casa la musica non cambia. Nonostante gli accordi di riprenderlo sotto il tetto coniugale solo per motivi genitoriali, l'uomo continua nelle sue violenze fisiche fino al punto di spingersi a minacciarla armato di coltello e a rubarle i soldi dalla borsetta. La donna allora prostrata fisicamente e psicologicamente va al pronto soccorso di Pergola. A quel punto i carabinieri di Monteporzio da un lato attivano tutti gli strumenti utili a proteggere ed ospitare la donna ed il bambino grazie all'intervento del centro antiviolenza e dall'altro informano immediatamente il pubblico ministero di turno, la dottoressa Silvia Cecchi che in tempi rapidissimi ha così chiesto e ottenuto la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Pesaro. Pertanto ora l'uomo è stato condotto in carcere e la donna insieme al bambino ha potuto far rientro nella sua abitazione.